Scene di violenza da un incontro di calcio, succede al Flaminio di Roma, il Lazio Atalanta, partita vinta dai Bergamaschi per 2 a 1. Il bersaglio dei tifosi è l'arbitro di cola di Avezzano, i protagonisti in campo non assecondano la sua direzione, 9 gli ammoniti, l'espulso è Nicolini, il peggio viene evitato per la pronta reazione delle forze dell'ordine, gli incidenti sugli spalti costeranno la squalifica per una giornata del terreno di gioco della l'azione.